In Serie B la prima della classe è ancora il Lanciano, altra prova di spessore, di personalità dell'undici frentano che aveva solo a carta un test di quelli impegnativi, il crotone rivelazione di Drago, quarto in classifica prima di questa giornata e reduce dai 5 vittorie nelle ultime 6 partite, ma il match dello Scida regala nuove conferme alla Virtus che grazie ad una grande ripresa legittima il blitz in terra calabrese, Baroni ripropone Babatiam davanti con Falcinelli e Piccolo, in mediana fuori di Cecco, dentro Paghera con Minotti e Casarini, rispetto a Bari nel crotone out Bernardeschi squalificato, panchina per Pettinari, dentro Ishaq e Bidawi, la Virtus inizia la partita con la volontà di comandarla, ma preste il fianco alle iniziative di Torromino che in apertura conclude centralmente. Risposta sonante della Virtus affidata al sinistro di Mammarella per Falcinelli che incorna, Gomis si salva distinto, ancora crotone con Torromino che sfrutta la sua velocità, ma pecca ancora al momento della conclusione. Dopo un inizio promettente la partita scende di tono e si arriverà senza particolari sussulti fino alla fine del primo tempo, con l'eccezione di una conclusione di Bidawi sull'esterno della rete del terzo e ultimo minuto di recupero, che non possiamo mostrarvi. Il grosso però arriva nella ripresa e dopo 90 secondi è subito vantaggio Virtus, confezionato dai migliori in campo, cross basso di Casarini e girata millimetrica di Diego Falcinelli, palo rete e secondo gol in campionato per il centro avanti rosso-nero, con tanto di corsa sotto il settore ospiti, con un centinaio di scarso di tifosi lancianesi. Gara ora molto viva, Amenta sbaglia il disimpegno, Ishaq non riesce ad approfittarne. Diciassettesimo Virtus vicino al raddoppio con il siluro di Fabrizio Paghera, palo pieno dalla lunga distanza. Nel frattempo girandola di cambi, Drago inserisce Pettinari e De Giorgio e proprio quest'ultimo chiama ad una difficile risposta a Seppe che si rifugia in angolo. Nel lanciano entrano Büchel, Dicecco e Plasmati per piccolo Minotti e Paghera. Casarini ispirato cerca la giocata ad effetto, Falcinelli va vicino al raddoppio con un sinistro dalla distanza che Gomis disinnesca, mantenendo in vita il Crotone, le cui velleità si frantumano di fronte al perfetto contropiede che passa per i piedi di Plasmati e Falcinelli. Quest'ultimo ricambia il favore a Casarini, il quale messo davanti a Gomis non sbaglia. E' il quarantatresimo della ripresa, primo gol in campionato per l'ex centrocampista del Bologna. A poco serve nel terzo e ultimo minuto di recupero il gol di Pettinari su assist di De Giorgio. La Virtus si riprende il posto che aspetta ad una squadra che gioca in questo modo, il primo. Questa è proprio una splendida realtà legittimata a stare così in alto.